La domanda che tutti si stanno facendo da un bel po' di tempo Presti è da top 10 a questo Mr. Olimpia? Come sappiamo il line up di questo Mr. Olimpia è molto più scarso dell'anno scorso con solamente 19 atleti rispetto ai 33 dello scorso anno e quindi con un line up un po' più scarso le possibilità per Andrea di ottenere un miglior piazzamento sono più alte perché ci sono meno atleti ma Andrea Presti è così buono da arrivare in top 10 quest'anno? Allora facciamo un calcolo veloce allora i primi 8 posti della top 10 sono già occupati e sono quelli di Adi, Derek, Brandon, Samson, Andrew Jack, Antella Brada, Nathan Diascia e Criso e quelli sono i primi 8 posti sacri che sono intoccabili restano gli ultimi due posti il nonno e il decimo posto che secondo me saranno in 3-4 bar atleti a contenderseli ovvero Charles Griffin, Regan Grimes, Tony Borton, Asam Mustafa e Andrea Presti quindi 5 atleti scusate no 4, 5 e secondo me i più quotati per entrare in questi ultimi due posti per la top 10 sono Charles Griffin e Regan Grimes con magari Tony Borton 11esimo e Andrea Presti e Asam Mustafa 12esimo o 13esimo quindi io Presti in top 10 a questo ministro Olimpia non lo vedo per un dato secondo me realistico perché gli altri atleti hanno meno punti deboli e in questo caso parliamo sempre dei quadricipiti e sono più proporzionati con l'upper body e il lower body specialmente appunto Regan, Tonyo e Charles Presti ovviamente ha il vantaggio della condizione però le gare non si vincono solo di condizione ci sono anche gli altri parametri proporzioni, simmetrie, masse e completezza generale del corpo quindi le gare non si vincono solo di condizione e quindi secondo me Andrea Presti non riuscirà ad entrare in top 10 quest'anno non perché li voglio male ma è un mio dato realistico personale preferisco essere onesto piuttosto che fare le solite le cattine di culo ma su una cosa sono abbastanza certo ovvero che quest'anno Andrea riuscirà a classificarsi nei primi 16 secondo me quest'anno è molto fattibile riuscire a classificarsi secondo me arriverà in una posizione tra il dodicesimo e quattordicesimo posto ecco se la giocherà con Asam Mustafa e metti magari un altro atleta dagli inferi che arriverà nella sua miglior forma di sempre ecco quindi secondo me otterrà una tra queste tre posizioni dodicesimo, tredicesimo o quattordicesimo più di così onestamente non lo vedo perché ripeto gli ultimi due posti della top 10 saranno occupati molto probabilmente da Charles Griffin o Regan Grimes o Tony Borton ovviamente Andrea si impegnerà lo stesso al massimo dando il 100% come lo ha fatto sempre specialmente all'ultima gara che ha vinto il Mr. Big per la terza volta di fila tra l'altro portando un pacchetto veramente spaziale super super pieno e ottima condizione ho visto le sue foto le ultime sue foto che ha messo su Instagram e a 4 weeks out era a 128 kg e lui solitamente gareggia a 121-122 kg quindi secondo me all'Olimpia potrebbe arrivare anche un po' più grosso di 122 kg magari a 124 o anche 125 perché 128 kg per lui sono tanti a 4 weeks out e quindi secondo me punterà tutto sull'arrivare bello pieno senza sacrificare troppo la condizione quindi arriverà molto più grosso e molto più pieno con anche la giusta condizione che lo contraddistingue poi dopo il Mr. Olimpia ho visto che ci sarà subito un'altra gara di qualifica per il 2024 ovvero il Romania Muscle Fest che sarà la settimana dopo il Mr. Olimpia gara che farà Marcello De Angelis Ors MD e secondo me Andrea potrebbe fare quella gara perché sarà la prima dopo l'Olimpia e la prima che darà la qualifica per il 2024 e se dovesse vincere potrà farsi tutto l'anno in off-season in massa per migliorare i punti deboli e pensare solamente all'Olimpia del 2024 quindi Andrea se dopo l'Olimpia non hai impegni faccia un pensierino a fare il Romania Muscle Fest poi ci sono anche altre gare in Europa ci sarà il Prague Pro a fine novembre e penso che sia l'ultima gara in Europa poi c'è il Japan Pro a dicembre in Giappone però in Europa mi pare che ci siano solo il Prague Pro e il Romania comunque Andrea faccia un pensierino quindi ecco per rispondere alla domanda che sta circolando molto ovvero Andrea Presti è da top 10 a questo misto Olimpia la mia risposta onesta e sincera secondo me è no fatemi sapere la vostra se secondo voi Andrea Presti è da top 10 o no all'Olimpia fatemelo sapere vi chiedo il like e un commento come al solito e ci vediamo al nuovo video grazie a tutti